Intercettati ed arrestati dalla polizia stradale di Arezzo, due trafficanti di droga trovati con oltre 6 chili di marijuana. È successo ieri sera, poco prima della mezzanotte, quando due pattuglie della sottosezione di Battifolle hanno fermato per un controllo un Fiat Ducato con targa italiana, con a bordo due milanesi quarantenni con qualche precedente penale che stavano procedendo dal capoluogo Lombardo verso la Sicilia. Il conducente è risultato senza patente di guida e quindi si sono resi necessari alcuni accertamenti ed il mezzo è stato scortato nella vicina sottosezione. Uno dei due ha poi dichiarato ai poliziotti di aver noleggiato il furgone a Milano poiché, essendo un agente di commercio di materiale elettrico, doveva trasportare la merce venduta alla clientela siciliana e che, vista la lunghezza del viaggio, si era fatto accompagnare da un amico. Giustificazioni che però non hanno convinto gli agenti che hanno deciso di eseguire una perquisizione del mezzo. Tolto dal vano di carico del furgone il materiale elettrico trasportato, gli agenti hanno diretto la loro attenzione ai pannelli laterali che sembravano manomessi. E proprio dietro a quelli del lato sinistro sono state trovate cinque buste termosaldate per evitare la fuoriuscita del suo forte e tipico odore colme di mariguana per un peso di 6 chili e 200 grammi. I due sono stati così arrestati e portati nel carcere fiorentino di Sollicciano, a disposizione dell'autorità giudiziaria.